Il piedino O per cucire le pence Potrete utilizzare il piedino O per cucire e creare le pence. Il piedino ha una guida lungo il lato destro che vi permetterà di realizzare dei perfetti margini di cucitura. Prima di tutto, fissare il piedino alla vostra macchina e scegliere un punto dritto. Piegare il tessuto creando una piega di alcuni centimetri dal margine, così che la vostra prima riga di cucitura sia lungo il bordo piegato del tessuto. Terminata la cucitura, spiegare la piega e crearne un'altra poca distanza dalla prima e posizionare nuovamente il tessuto piegato sotto la guida del piedino. Realizzare un'altra cucitura. Per completare il lavoro, basterà premere tutte le pieghe realizzate verso il basso, assicurandovi che siano tutte rivolte nello stesso verso. Grazie a tutti.